Nel mondo attuale, in un contesto di grande incertezza e paura, le persone sono spesso in cerca di risposte e di conforto, specialmente quando affrontano prove apparentemente insormontabili. In questo clima, il messaggio della Vergine Maria di Meggiugorie risuona con un particolare senso di urgenza. La Vergine appare con una chiamata universale rivolta a tutti i suoi figli, un messaggio che attraversa i confini geografici e culturali, e che tocca il cuore di milioni di persone. Il suo appello non è solo un invito a riflettere, ma una vera e propria chiamata all'azione spirituale, un'esortazione a prepararsi per un periodo di grandi prove che attendono l'umanità. Eppure, il suo messaggio non è privo di speranza, anzi, è proprio attraverso la fede che si può trovare una luce in mezzo alle tenebre. La chiave di tutto questo percorso di preparazione spirituale è la trasformazione del cuore e dell'anima. Il primo e più importante punto del messaggio della Vergine Maria è la chiamata a una conversione spirituale profonda e sincera. Maria parla di una trasformazione che va oltre il semplice atto di partecipare a riti religioso o di recitare preghiere meccanicamente. Essa si riferisce a una conversione del cuore che richiede l'abbandono di tutto ciò che separa l'anima dalla grazia di Dio. Questo tipo di conversione non è un cambiamento superficiale, ma una rivoluzione interiore che trasforma la vita quotidiana del credente. Maria chiama i suoi figli a riconoscere i loro peccati, a pentirsi sinceramente, e a cercare la misericordia infinita di Dio. Questo processo di conversione è reso possibile solo attraverso una relazione personale e profonda con Cristo, che è il centro della fede cristiana e l'unica via per la salvezza. In un mondo sempre più indifferente alla fede, questa chiamata alla conversione può sembrare difficile da realizzare. Tuttavia, la Vergine Maria sottolinea l'importanza della preghiera come mezzo per facilitare questa trasformazione spirituale. Attraverso la preghiera, in particolare il rosario, il credente entra in contatto diretto con Dio e con il mistero della sua misericordia. La preghiera è descritta come un'arma potente contro le tentazioni e le forze del male che cercano di allontanare l'umanità dal cammino della salvezza. In questo contesto, il rosario non è solo una ripetizione di formule, ma un vero dialogo con Dio, un modo per aprire il cuore alla sua presenza e alla sua grazia. Ogni Ave Maria recitata è una luce che illumina le tenebre, una fiamma che brucia con la fede e l'amore del credente. La preghiera, tuttavia, non è sufficiente se non accompagnata dalla pratica dei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia e della confessione. L'importanza di questi sacramenti è sottolineata nel messaggio della Vergine Maria, in quanto essi rappresentano i canali attraverso i quali la grazia di Dio scorre nell'anima del credente. L'Eucaristia, il sacramento del corpo e del sangue di Cristo, è il centro della vita cristiana e la fonte di forza spirituale per affrontare le prove del mondo. Attraverso la partecipazione all'Eucaristia, i fedeli ricevono non solo la grazia di Dio, ma anche il coraggio e la determinazione per resistere alle tentazioni e alle tribolazioni. La confessione, d'altra parte, è il mezzo attraverso il quale l'anima viene purificata e riconciliata con Dio. Maria invita i suoi figli a confessarsi regolarmente, poiché è attraverso la confessione che l'anima può essere liberata dal peso del peccato e rinnovata nella grazia di Dio. Un altro elemento centrale del messaggio della Vergine Maria riguarda l'avvertimento di eventi imminenti che scuoteranno il mondo. Maria parla di un tempo di grandi prove che si avvicina, un periodo di disastri naturali e spirituali che metteranno alla prova la fede e la perseveranza dell'umanità. Tra i paesi specificamente menzionati ci sono Messico, Colombia, Spagna, Venezuela, e altri, che secondo il messaggio della Vergine affronteranno terremoti, conflitti e altre forme di avversità. Tuttavia, queste prove non si limiteranno solo a eventi fisici, come i terremoti, ma comprenderanno anche una crisi spirituale globale. Questo periodo di difficoltà è visto come un'opportunità per l'umanità di rinnovarsi spiritualmente, di tornare a Dio e di rafforzare la propria fede. La Vergine avverte che durante questo tempo ci saranno grandi inganni spirituali, orchestrati dall'Anticristo, che cercheranno di allontanare le persone dalla verità di Cristo. Questo porta al tema della battaglia spirituale in corso. Secondo il messaggio della Vergine Maria, l'umanità è già immersa in una lotta tra le forze del bene e del male. Questa battaglia non è solo fisica, ma spirituale, e coinvolge il cuore e l'anima di ogni persona. Il male cerca di allontanare l'umanità da Dio, diffondendo menzogne, inganni e false dottrine che allontanano le persone dalla verità del Vangelo. L'Anticristo, menzionato nel messaggio, rappresenta l'incarnazione di queste forze oscure, e il suo scopo è quello di distruggere la fede e di portare il mondo in una spirale di caos e disperazione. Tuttavia, Maria rassicura i suoi figli che coloro che resteranno fedeli a Dio non saranno abbandonati. Essi saranno protetti e guidati attraverso la tempesta spirituale, trovando rifugio nel Sacro Cuore di Gesù e nell'Immacolato Cuore di Maria. Per affrontare questa battaglia spirituale, la Vergine Maria sottolinea l'importanza di invocare la protezione di San Michele Arcangelo. San Michele è il capo delle Armate Celesti e il difensore del popolo di Dio contro le forze del male. Nel messaggio, Maria invita i suoi figli a pregare San Michele e a chiedere la sua intercessione, poiché egli è pronto a combattere contro il maligno e a proteggere l'umanità dai suoi attacchi. La sua intercessione è particolarmente importante in questo periodo di prova, poiché le forze oscure stanno cercando di diffondersi in tutto il mondo, ingannando e allontanando molte anime dalla verità. Nonostante la severità delle avvertimenti contenuti nel messaggio della Vergine Maria, c'è un forte senso di speranza e protezione divina. Maria assicura che, anche se il mondo sta attraversando un periodo di grandi difficoltà, coloro che resteranno fedeli a Dio e si consacreranno ai sacri cuori di Gesù e Maria saranno protetti. Questa protezione non riguarda solo la sicurezza fisica, ma anche la sicurezza spirituale, poiché Dio veglia su coloro che lo amano e lo servono. Maria promette che la vittoria finale non apparterrà alle forze del male, ma a Dio e a coloro che hanno avuto fede in Lui. Le forze oscure possono sembrare potenti e minacciose, ma alla fine non prevarranno contro la luce della fede e dell'amore di Dio. Maria descrive il prossimo periodo di oscurità non come la fine, ma come un tempo di purificazione. Questo periodo di prova è visto come un'opportunità per l'umanità di riscoprire la propria fede e di tornare a Dio con un cuore sincero. Attraverso le prove, molte anime saranno riportate a Dio, e la fede sarà rinnovata in tutto il mondo. Questo tempo di purificazione è quindi un'opportunità per il rinnovamento spirituale, per la restaurazione della fede e per il trionfo dell'amore di Dio sulle forze del male. Maria invita i suoi figli a vedere queste prove non come punizioni, ma come opportunità di crescita spirituale, di conversione e di purificazione. Un aspetto chiave di questa preparazione spirituale è la preghiera, in particolare il rosario. La Vergine Maria sottolinea più volte l'importanza di pregare il rosario ogni giorno, poiché esso è un'arma potente contro le forze del male. Ogni preghiera recitata con fede è come una luce che risplende nelle tenebre, respingendo le forze oscure e attirando la protezione divina. Il rosario è descritto come uno scudo spirituale che protegge chi lo recita e offre pace e sicurezza spirituale in mezzo alle tribolazioni. Maria incoraggia i suoi figli a non limitarsi a pregare solo per se stessi, ma a offrire le loro preghiere per il mondo intero, per la conversione dei peccatori e per la pace. Ogni preghiera, ogni atto di devozione, ha il potere di cambiare il corso degli eventi, di mitigare il dolore e la sofferenza, e di portare pace in un mondo intumulto. Inoltre, la Vergine Maria invita i fedeli a cercare la protezione di San Michele Arcangelo e a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. Questi atti di devozione non sono solo simbolici, ma rappresentano un vero impegno spirituale, un modo per chiedere la protezione e la guida di Dio durante questi tempi difficili.